Io sto già chiedendo delle informazioni perché lo sappiamo che quando si parla di mutuo si parla di una cosa importante. Salutiamo e diamo il benvenuto ancora all'avvocato Ronzo Valletta. Ciao Manuela, buongiorno a tutti gli amici che ci seguono. Dopo le rose del signore che ha dedicato alla moglie, non si ricordava gli anni ma va a senso. Dopo le scarciofle parliamo di qualche spino. Le famiglie, perché insomma il mutuo generalmente viene contratto perché si ha bisogno di liquidità, non c'è nulla di male. Magari una persona non potrebbe mai permettersi una casa senza un mutuo, ma non solo una casa. Perché il mutuo poi dobbiamo distinguere intanto tra mutuo cosiddetto chirografario, non è una parolaccia, è il mutuo ipotecario. Il mutuo chirografario cos'è? È il mutuo semplice, il prestito, il finanziamento. È quello che non è garantito da una garanzia reale. Quindi è il classico finanziamento, il tasso un po' più alto, ti devi comprare la macchina, fai il prestito e quello è un mutuo chirografario. Se non lo paghi, ma voi lo pagherete, ne sono certo, se non lo paghi rispondi col tuo patrimonio, ma non con un bene determinato. Neanche con l'auto che ti sei comprato, rispondi con il tuo patrimonio. Però io penso che poi gli amici che ci seguono l'attenzione maggiore la rivolgono soprattutto a questo famoso mutuo ipotecario con cui ti compri, hai detto bene. La cosa più preziosa per un uomo è la casa, è dove si sta la maggior parte, non fosse altro perché si dorme. E quindi passiamo già quasi un terzo della giornata. Questo mutuo ipotecario, intanto perché si chiama mutuo ipotecario? Si chiama mutuo ipotecario perché è garantito da un'ipoteca. Cos'è un'ipoteca? Voi fate un mutuo, l'ente mutuante vi presta una somma che voi vi obbligate a rimborsare in un certo termine. L'ipoteca è una garanzia reale che l'istituto mutuante prende. Cioè se tu non paghi, non rimborsi il mutuo, loro con quell'ipoteca hanno un privilegio per cui vendono quel bene e si soddisfano per i soldi che tu non hai restituito in buona sostanza. L'ipoteca quindi grava sulla casa che tu vai a comprare, ma non necessariamente perché se io compro la casa la cosa più probabile è che l'ipoteca mi venga accesa sulla casa che io vado a comprare con quell'ipoteca. Ma possono esserci anche dei mutui ipotecari fatti con beni di terzi. Per esempio io compro qualcosa e faccio un'ipoteca di un terzo datore, per esempio mio padre, mia sorella, che si chiama appunto terzo datore. In questo caso la garanzia non è la casa che io compro, ma è la casa di un terzo. Però questi sono aspetti tecnici. Diciamo poi che gli aspetti pratici che probabilmente interessano i nostri amici sono soprattutto il tasso. Però sono informazioni interessanti. Sì, sono informazioni interessanti perché sappiate che proprio perché l'ipoteca può essere accesa anche da un terzo, potete accedere ad un mutuo ipotecario senza avere una casa. purché un terzo, il papà, la mamma, la sorella, la zia, si presta di offrire garanzia ipotecaria sulla sua casa a garanzia del rimborso del mutuo che voi andate a contrarre. Quindi non necessariamente dovete avere voi l'immobile su cui si accende la garanzia ipotecaria. I tassi... Torniamo sul tasso dolente. Il tasso dolente. Allora i tassi, come ovviamente tutti voi, quando andrete a scegliere il mutuo da contrarre, la prima cosa probabilmente a cui guarderete è il tasso. Io direi che uno degli aspetti non è certamente... non completa le tante cose che bisogna guardare, ma sicuramente il tasso è un aspetto importante. Io farei una divisione base tra tasso fisso e tasso variabile. Che cosa significa? Tasso fisso, normalmente il tasso fisso è il tasso dei mutui chirografari, quelli non ipotecari di cui parlavamo prima, ma insomma può esserci anche nei mutui ipotecari. Che significa? Il tasso del mercato finanziario e quindi l'andamento dell'economia. Questo è un mutuo che viene prediletto da chi vuole dormire sonni tranquilli. Cioè costa di più... O chi fa magari un lavoro da dipendente che ha uno stipendio fisso... Quella questo sì, diciamo che ti permette una prospettiva di vita, tu sai già che pagherai quella rata e quindi ti mette a riparo da brutte sorprese, ti mette a riparo da un andamento dell'economia che dovesse andare male. Però naturalmente il tasso fisso, che cosa succede? Che ti faranno un tasso più alto di quello che normalmente viene fatto con il tasso variabile. Quindi tasso fisso dura per l'intera durata del rapporto. Tasso variabile invece che cosa significa? Significa che il tasso viene ancorato, viene rapportato ad un indice di riferimento. L'indice di riferimento ce ne sono diversi. Diciamo che quello che va per la maggiore, più frequente in questo momento, è il cosiddetto tasso Euribor. E cioè sarebbe il costo del denaro, il tasso Euribor, il tasso e il costo medio del denaro nelle transazioni tra istituti di credito. Quindi in questo momento per esempio l'Euribor credo che sia intorno ai 3,8-3,84. Poi ci sono Euribor a un mese, Euribor a tre mesi, quindi ci sono piccole variazioni. Diciamo che in questo momento l'Euribor è 3,84. Quindi se tu hai un tasso variabile, normalmente ti viene dato l'Euribor più uno spread. Lo spread è il guadagno della banca. Faccio un esempio elementare. Se per esempio mi viene fatto un tasso Euribor più spread di un punto, significa che in questo momento pago il 4,84%. Perché l'Euribor, 3,84, è il costo del denaro, è il costo della banca nel procurarsi quel denaro. Lo spread è l'1% e il guadagno della banca quando mi rivende quel denaro. Quindi sostanzialmente il mio tasso sarà al 4,84. Oggi, a differenza del tasso fisso, che cosa succede? Che l'Euribor cambia ogni giorno. E quindi oggi, se ho un mutuo ventennale, oggi è il 3,84. Fra 13 anni, non sappiamo, bisognerebbe avere una sfera di vetro. E siccome in questo periodo si sa che i tassi sono aumentati, In questo periodo è successa una cosa strana. Negli anni 10, diciamo, 2010, i tassi sono abbastanza alti. Poi sono scesi. C'è stato un momento in cui addirittura l'Euribor era negativo durante il Covid, per esempio. Anche un poco prima. Quindi il costo del denaro era minimo. Subito dopo il Covid, questo Euribor, comunque il costo del denaro in generale, ha cominciato a galoppare molto, purtroppo molto velocemente. E sono nate le difficoltà che sono note a tutti. Tantissimi amici si sono visti ogni mese la rata che era tot aumentare a dismisura, perché chiaramente l'Euribor ha continuato a galoppare. Ora, per fortuna, pare che si sia fermato. Adesso è un po' di tempo che è più o meno stazionario. Quello che succederà, ripeto, bisognerebbe avere la sfera di vetro. Però io un consiglio do. Ecco, questo è un consiglio importante. Quando fate un tasso variabile, accertatevi che venga stabilito anche un cosiddetto cap. Cos'è questo cap? Cap rate, scusate il mio inglese, parlo meglio il dialetto, però dai. È un tasso massimo e un tetto massimo. Faccio l'esempio di prima. Io faccio un mutuo con Euribor più un punto di spread. Però mi premunisco e chiedo un cap, quindi un tetto massimo. Mettiamo il 7%. Quindi che cosa succede? Fra sei anni, se l'Euribor è sceso, io ci guadagno. Perché se l'Euribor è diventato 2, 2 più 1 io pagherò il 3%. Se l'Euribor malaguratamente galoppa per qualche problema qualsiasi, economico, finanziario, globale, che succede? Che se l'Euribor, per esempio, è il 6,5%, io dovrei pagare 6,5 più 1, 7,5%. Ma se mi sono fatto mettere un cap del 7%, io più del 7% non pagherò mai. Quindi è un sigillo di garanzia e di tranquillità sotto questo punto di vista. Ovviamente questo è un accorgimento molto importante perché dovete chiederlo espressamente alla banca, probabilmente vi costerà globalmente qualcosa in più, però è una valvola di sicurezza. Cioè tu sai che oltre quel cap non vai e quindi diciamo che al tasso fisso può affiancarsi questo tasso variabile che è soggetto ad incognite più varie, però mitigato se per esempio vi premunite con questo cap. Lei ha parlato, Avvocato, di altri criteri da valutare oltre al tasso. Quali sono? Beh, i criteri, intanto bisogna fare un discorso generale, e cioè il tasso va distinto, il tasso nominale, dal tasso cosiddetto globale, cioè il costo effettivo del denaro. Perché il tasso nominale non corrisponde al cosiddetto TAIG, che è il tasso effettivo globale. Nel tasso effettivo globale vengono inserite alcune spese che fanno parte del costo del denaro. Cioè voi se prendete a mutuo 100.000 euro al tasso nominale del 3%, in effetti non pagate solo quel 3% perché ci sono altre spese che per legge vanno inserite nel tasso. Le spese di istruttore della banca, queste incidono perché possono essere 200, 300, 500, una percentuale sulla somma mutuata e quindi questo è un parametro importante. Le spese di perizia, perché voi sapete che quando fate un mutuo ipotecario la prima cosa che la banca fa è fare una perizia per valutare quanto vale il bene, quindi per vedere se la garanzia di quel bene è capiente per il rimborso del mutuo, quindi per recuperare la somma eventualmente non pagata dal mutuatario. E quindi... Che su questo ci possiamo, voglio dire, possiamo essere attenti sulle varie proposte di contratto di mutuo. E certo, ecco perché diciamo ci sono altri parametri. Quindi attenzione, il tasso nominale, cosiddetto nominale, non è poi il tasso effettivo, quindi attenzione a qual è il tasso nominale e a qual è il tasso effettivo. Perché se voi pagate su un mutuo di 100.000 euro, 500 euro in più di spese di istruttoria, e capite che il TAEG è più alto di quello che magari c'è un tasso nominale più basso e un TAEG più alto. Siamo che c'è la fregatura. Dovete stare accorti a questo. Fra l'altro, e qui apro una parentesi, non è che il tasso viene scelto liberamente dall'Istituto Mutuante. Che cosa voglio dire? Che i tassi di interesse sono soggetti a vigilanza statale. C'è una legge, la 108 del 1996, che è la legge sull'usura, la quale prevede che ogni tre mesi il Ministero del Tesoro emana una circolare, un decreto in cui sono stabiliti i tassi medi di tutti i contratti bancari. Conto corrente, apertura di credito, mutuo, prestito personale. Quindi che cosa significa? Che ogni tre mesi il Ministro rileva i tassi medi e su quei tassi medi, con un certo meccanismo che è inutile stare qui a spiegare, viene individuato il cosiddetto tasso soglia. Quindi, per esempio, facciamo l'esempio del mutuo. Ogni tre mesi c'è un decreto del Ministero del Tesoro che dice i tassi medi dei mutui ipotecari sono il 3%, comunque non possono superare il 5%, che è il cosiddetto tasso soglia. Quindi gli istituti di credito non possono superare quel tasso soglia. Se lo superano, che cosa succede? Che il mutuo viene colpito da nullità per quanto riguarda la patruzione degli interessi. Quindi voi andreste a restituire, a rimborsare, la sola sorte capitale che vi è stata data, cioè la somma che vi è stata data, ma non gli interessi. Però, insomma, questo è un caso limite. Ormai difficilmente capita che si superi il tasso soglia, però questo per dire che il tasso non è che il controllo c'è da parte del Ministro. Quindi, anche se a volte ci sentiamo, come dire, soffocati dalle spese che fanno aumentare la nostra data di mutuo, in realtà possiamo star tranquilli che tutto è sotto controllo. Certo. Avvocato, io la saluto, la ringrazio. Grazie a voi. Grazie. Lei l'ha finito di pagare il mutuo? Eh, no. Io nemmeno, ancora un po' di tempo bisogna lavorare per pagare le case che poi rappresentano il dono più bello, l'opportunità più grande. Io lo pago per tutta la vita, così sono tranquillo, è un compagno di vita. Anche secondo me, perché seppure fosse possibile pagare tutto insieme in contanti una casa, perché sottrarsi di tutto quel denare? Seppure fosse possibile, vero? Perché lì è una scelta, sai, c'è chi dice... Facciamo piano piano e soffiamo piano piano. C'è chi dice pago e basta, c'è chi dice ma no, mi tengo i soldi e... E pago piano piano. Anche lì sono scelte personali, è una questione di scelte personali. Noi paghiamo, vero? Piano piano. Paghiamo. Sì. Intanto ci impegniamo per farlo. Grazie di essere stato con noi, Avvocato Ronzo Valletta. Grazie a voi per l'invito. Sempre molto chiaro, sempre molto veramente gentile.